Siamo davanti allo stand di Camera di Commercio e quindi siamo nel nostro ambiente naturale e possiamo presentare Confederazione Nazionale Artigianato CNA, siamo con Filippo Provenzano e lui mi ha suggerito chiaramente delle parole d'ordine e io inizierò di qui, parleremo dell'Academy e le parole d'ordine sono conoscere, studiare, lavorare. Tradotto? Tradotto è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente subito dopo il Covid per dare struttura e organizzazione a cose che facevamo già prima nei confronti del mondo giovanile, degli studenti, cioè quella di far conoscere le buone opportunità lavorative nell'artigianato e nella piccola impresa che molto spesso non sono altrettanto conosciuta e di altre realtà. E quindi queste tre parole chiave che sono appunto conoscere, vuol dire conoscere cosa c'è dentro come attività, come tecnologie, come competenze, studiare quali sono i percorsi, le opportunità e le realtà e poi lavorare come un'opportunità di realizzazione dal punto di vista professionale e dal punto di vista economico. Quindi è un impegno ed è però un'organizzazione fatta di attività continuative, molte. Quindi le persone, i ragazzi, penso le persone più giovani, si avvicinano alla vostra struttura e attraverso un'Academy vengono indirizzate, questo in parte? È un po' più dinamico come tipo di realtà, di relazione. Noi prediligiamo rapporti con gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, come si diceva un tempo, e con tutti gli studenti della fase terziaria, che sono quindi l'università o percorsi sempre post-diploma come gli ITS che rappresentano, come dire, delle esperienze molto orientate al mondo del lavoro. Parliamo di giovani di tutti i generi, insomma, da vent'anni in su, che si stanno veramente preparando col mondo del lavoro, ad arrivare nel mondo del lavoro. Quindi per noi è un'opportunità, ma è anche per loro un'opportunità di conoscenza, mettere davanti a loro degli imprenditori delle imprese e al contrario a degli imprenditori delle imprese, dei giovani, si sviluppano dei dialoghi, degli approfondimenti che sono un risultato per tutti, positivamente molto importante. Quest'Academy ha delle preferenze per il tipo di aziende da coinvolgere o che vengono coinvolte o è veramente aperto a qualunque tipo di attività? Noi associamo e rappresentiamo e assistiamo tutte le espressioni dell'artigianato, da quelle più piccole, a quelle più strutturate e in generale le PMI, perché le nostre imprese crescono e da artigiane diventano anche manifatturiere. Quindi noi abbiamo un'attenzione particolare, preferenziale per questa realtà, perché quella che conosciamo e rappresentiamo. Per noi è una cosa molto importante poter esibire il buon lavoro che c'è in queste imprese e i riscontri sono assolutamente confortanti. Ci sono esempi di successo particolari che possono essere menzionati o è comunque una categoria che ha dei bei numeri comunque? Ma allora, se parliamo dell'Academy, della CNA Lab Academy, noi stiamo facendo un percorso molto, come dire, si sta sviluppando molto in diverse tappe dentro i temi della sostenibilità. A che titolo lavoriamo con le nostre imprese? Tutta la parte degli impiantisti sono molto implicati rispetto alla realtà della sostenibilità perché sono le installazioni, il fotovoltaico, l'efficientamento energetico, annessi e connessi. Noi stiamo sviluppando un'attività veramente molto promettente. Uno perché le nostre imprese sono tecnologicamente molto avanzate e interessanti, ma c'è un riscontro da parte degli studenti e delle studentesse molto interessante. Quindi ci fa molto piacere questo tipo di approdo e quindi riteniamo che sia la migliore dimostrazione di quello che serviva e il contributo che possiamo dare. In aggiunta, perché noi non aggiungiamo altro se non il nostro ruolo, non ci sostituiamo né alle scuole né alle università, le valorizziamo con il nostro apporto. Volendo, i giovani o comunque chi ne fosse interessato, come si avvicina a voi e a questo tipo di attività? Ci possono trovare su web, sui social network, CNA Torino, in tutti i principali canali e potete contattare direttamente le nostre sedi. Filippo Provenzano, Conferenza Nazionale Artigianato. Grazie. Buon lavoro, buon salone. Grazie.